Il recente viaggio del Presidente del Consiglio Matteo Renzi in Russia, cambiamo pagina ovviamente, sono stati sottoscritti alcuni accordi bilaterali con protagoniste alcune imprese italiane e una, vedete le immagini, vede protagonista Parma e l'ospedale di San Pietroburgo. Il Presidente della Pizzarotti S.P.A., Paolo Pizzarotti, ha firmato l'accordo per la progettazione, la costruzione e la gestione di un edificio ospedaliero nella Municipalità di San Pietroburgo. L'opera collegata a una struttura medica già esistente si estenderà su una superficie di oltre 41 mila metri quadrati. L'importo di aggiudicazione è di circa 327 milioni di euro. Prevede la progettazione e la costruzione della struttura per una durata di 3-5 anni, la relativa gestione e manutenzione 7 anni. All'interno dell'edificio saranno realizzati 504 posti letto.